Bello ragazzi sono Gian, ben ritrati in questo nuovissimo video e quest'oggi andremo a fare una reaction sulle migliori clip fatte sulla nuova Rebirth Island Ho già dato un'occhiata a 2-3 clip, devo dire che sono veramente qualcosa di assurdo Ma prima di addentrarci in questa reaction vi ricordo Eneb.com Ormai lo conoscete tutti quanti, state acquistando in tantissimi Eneb.com è il miglior sito per fare acquisti di giochi, abbonamenti, ricariche, qualsiasi tipo di console a dei prezzi davvero super scontati Cosa non ci credi? Dai un'occhiata tu stesso nei link che vi lascio in descrizione Con il codice Gian avrete diritto ad un ulteriore sconto Davvero ragazzi, troverete qualsiasi cosa Ogni settimana ci sono un sacco di offerte, vi faccio un esempio 100€ di PSN card, li portate a casa con 80€ Potrei continuare all'infinito, per cui ragazzi link in descrizione, dateci un'occhiata e non dimenticatevi di farvi sapere cosa acquistate Torniamo al video Come di consuetudine ragazzi ci mettiamo le cuffie, avete visto è cambiata un pochino la visuale È cambiato l'obiettivo della videocamera, spero che vi possa piacere questa visuale molto più ampia A me sinceramente fa impazzire Ed ora non ci perdiamo in chiacchiere, andiamo subito ad analizzare queste clip Primo in assoluto, Face Neo Lo vediamo con lo Swiss Si butta la siringa Mamma mia Cioè vabbè che conosciamo tutti ovviamente Face Neo è qualcosa di assurdo Qui vediamo J-Gad con la face cam frizzata Non si sa perché Butta due bouncing betty Ne vede uno Cerca di tirarlo giù Cosa? L'ha buttato giù ragazzi Non sono entrati tanto bene i colpi Sembrava un silentino Ma non dico nulla Comunque 1v4 dovrebbe essere Vediamo se la claccia Teoria sì Qua ne butta a terra un altro Ne aveva uno sopra Che non so se appunto sia stato questo qua Spara a caso Vediamo Indossa la maschera Si sposta Ne butta a terra uno Ne butta a terra due Dovrebbe essere rimasto contro l'ultimo Vediamo No way No way Mamma mia Però raga Però Bella giocata minchia Vediamolo qua Ne butta a terra uno Non conosco il player Mi dispiace Vediamo un attimino Sta utilizzando il Volkswagen Non so come si chiama il Vox Strumengauer Una cosa Non so Wow Wow Mamma mia Mamma mia Che giocatore Mamma mia Altra clippina Vediamo un attimino Oddio Questo qua sta atterrando What? No pensavo se ne facesse un altro Oh Buia Mamma mia raga Buia da un po' che non lo guardiamo E Veramente Regala sempre Cosa? What? Che cosa? Non l'ho capita Non l'ho capita Sarò super sincero con voi Non l'ho capita Non so perché sia finita la partita così Non ne ho la più palida idea Sarò onesto Non conosco nemmeno lui come giocatore Wow Sicuramente ha un ottimo movement eh Sicuramente ha Un movement god Veramente questo Wow Wow Molto clean Bella Bella clip Qua vediamo Biffle Ovviamente ci regalerà Qualcosa di Qualche emozione Ok Wow Mamma mia Slalom Si piastra E torna subito all'attacco Eh Mamma mia Qua l'ha fottuto Bella questa slidata Eh Bella 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 giocata Eccolo qua Che lo finisce così Quasi per umiliarlo Oddio perché c'è Nick Merckx Ma perché c'è sta cosa Ma siamo fuori Questo Fa veramente ridere ragazzi La faccia così Sembra Proprio un kebab Neanche un kebab Non so ragazzi Ditemelo voi cosa sembra Bella Bella anche questa clip Cavolo che coltellini Tanta roba È stato un po' distratto È stato un po' distratto sinceramente Da Da Nick Merckx Così Mamma mia Aspetta Il primo lo tira giù Con il coltellino Il secondo Di Owen Bella mira Bella mira Non conosco questa ragazza Sinceramente Non ho mai visto niente Su di lei Magari potremmo appunto Trarre spunto da questa reaction Wow Mamma mia Porca droga Che clip Potremmo trarre spunto Da questa reaction Per appunto poi portare I giocatori singoli Che vedremo All'interno di essa Appunto Wow Wow Mamma Ma raga Di cosa stiamo parlando Nio è veramente È veramente assurdo Raga Io non so come faccia Sinceramente Guardare Oh qua capture Bella Bellissimo Wow Raga non so cosa dire È veramente assurda Questa reaction Cioè è veramente bella Vabbè ovviamente È il best of di clip Quindi Non potevo aspettarmi altro Però raga È veramente assurda Wow Wow Tanta roba boys Finanzeppa Un concentrato di clip Così È bello tosta È da fare La reaction Ve lo garantisco Vediamo un attimino Non conosco neanche lui Purtroppo Raga Perdonatemi Un bel movement Qua sta usando l'apa Tira terra Wow Strana giocata Raga Che Wow Direi Porca troia Raga Veramente Che cavolo di clip Mutex comunque Wow Un bel non scoppino così Ma secondo me Non è finita Secondo me Non è finita così Secondo me È ancora qualcosa di servo Per noi Vediamo Si affaccia un po' Oh Mamma mia Mamma mia Stavo già per impazzire Questo se lo Ma ok Ok ci sta come clip Ci sta come clip Nulla di troppo eclatante Finalmente raga Un bel movement king Come Joe Ci regalerà sicuramente Qualche Qualche giocato Oddio Vediamo Oddio Qua sta sbagliando Ha sbagliato un pochino A fare A fare lo slide cancel Ha sbagliato pure lui Quindi Quindi raga Siamo normali Se non viene sempre lo slide Ogni tanto sbagliamo Sbagliano anche i migliori Bella Bella Bellissima Bellissima Da Joe Mi aspettavo qualcosa di più Sicuramente Anche Rima Da Joe Mi aspettavo qualcosa di più Aidan Aidan Mamma mia Cioè veramente Vederei comunque Il pro Su Rebirth È ancora più bello Secondo me Cioè Rebirth proprio Da un Da una dinamicità Al tutto Che è fantastica Come se li sta trollando Ma come se li sta trollando Mamma mia Guardatelo com'è focus Guardatelo come Grande Aidan Grande Minchia Bellissima clip Color viola Non riesco a capire bene Il colore Bella Subito È un confermatore Accanito Con Wow Wow Bella Bella giocata Bella giocata questa qua Ok MP40 Ne tira terra uno Cosa succede ora Un altro Oh Qua si prende un po' gioco Si prende un po' gioco Ci sta Anche raga C'hanno un botto di sub Questi qua Però non li ho mai visti Vi giuro Anche il milione su youtube Vedo che c'ha il button Ma non li ho mai visti Veramente Belle Belle clip Però appunto Nulla di wow Per ora Bella Bella comunque Molto bella Molto molto bella Ragazzo qua l'abbiamo già visto all'inizio Tira terra uno Easy Bello Bella questa conferma Proprio Cioè si vedeva pochissimo È riuscito a confermarlo Grandissimo Veramente Vediamo No non ci Raga What Ma siamo sicuri Siamo sicuri Siamo sicuri sia legito Una cosa del genere Raga La riguarderei volentieri Al rallentatore Però non lo so Ho paura di quello Che potremmo vedere Io ho visto una cosa Abbastanza strana Però diciamo che un predict Così Non credo che possa farlo Un cheater Un cheat Insomma Che ti dia quella Veggenza Insomma tale Però va bene raga Lasciamo perdere Raga ci gustiamo Il finale di questa Di questa reaction Non andiamo troppo Nel dettaglio Sennò veramente Diventiamo pazzi E poi nei commenti Raga non voglio Non voglio scatenare Il puttiferio Se magari vi può interessare Guarderemo qualche clip Del ragazzo Ecco insomma Vediamo un pochino qua Di slide È rimasto senza Wow Fortunato che ha lanciato Ovviamente il coltellino L'altro Se no si pigliava Un bel Mamma mia Mamma mia Bella Bella clip Non lo metto in dubbio Che siano fortissimi FIFA Mamma mia FIFA anche Lui Bella belva Lui veramente Qualcosa di assurdo Raga È un drago Vediamolo No non ci credo Non dirmelo Ah ok Pensavo facesse tipo Un quick Ma cosa Vabbè Ok raga Una reaction a FIFA Che dite Si può stare Secondo me è un botto Secondo me è veramente un botto Vediamo Reppulse Raga Si fa un bello slide Mamma mia Bello Bellissimo Vediamo È bravo come giocatore È bravissimo Ancora di più Però come intrattenitore Secondo me Reppulse Ancora meglio Come intrattenitore Che come giocatore Dal mio punto di vista Vediamolo col cecchino Bella Bellissima Non so come abbia fatto Lightato ai piedi Palesemente Però insomma Sappiamo che Warzone Ha un po' l'Hitbox Bagato Insomma I moltiplicatori Dell'Hitbox Sono un po' la cazzo Swag ragazzuoli Vediamo un attimino Cosa ci combina Questa clipettina Con l'MP40 Entra sotto Prison Ne vede uno Vestito da Ghost Lo atterra Bella Oh peccato per il coltellino Che ha rovinato Un pochino L'armonia della clip Oh wow Wow Bello così Cioè Strabello Finire il team Con il colpo di cecchino Bello 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 Ragazzi siamo giunti Alla fine di questo video Spero che ovviamente Vi sia piaciuto Se è così lasciate un like Un commentino Se non avete fatto Iscrivetevi al canale Consigliatevi La prossima reaction Che vorreste vedere Vi ricordo quindi Eneva.com Se volete abbonamenti Giochi Ricariche Per qualsiasi tipo di console A dei prezzi scontatissimi Codice Jan Ed inoltre anche Aim controller Sempre codice Jan Se volete Un bellissimo sconto Di 50€ Su un pad build Dato da 200 Quindi alla fine Vi viene a costare 150€ Ci becchiamo con i prossimi video Raga Buona giornata Bella Ciao